C'è un annuncio però molto importante che vorrei darvi per quanto riguarda il PIS pregando insieme al Signore. Voi come sapete tutte le settimane noi abbiamo due incontri settimanali durante la sera, uno il mercoledì e uno il giovedì. Quello del giovedì rimane sempre uguale nel senso che noi ci incontreremo alle ore 20 su Zoom nello stesso link come già siete abituati quindi io incoraggio chi non ha partecipato a partecipare e anche invitare tutti i nostri cari fratelli a partecipare nella preghiera. Quello che cambia, una proposta nuova per questa settimana, vogliamo fare una prova, il mercoledì a Rimini e a Cesena noi vogliamo fare sia presenziale sia virtuale. Quindi presenziale però non sarà alle ore 20 visto il coprifuoco che c'è alle 10 e tutto quanto allora abbiamo pensato i fratelli che magari già sono per la strada che lavorano. Noi ci incontreremo alle ore 18 e 30 dalle 18 e 30 alle 19 e 30 nella chiesa Cesena e dalle 18 e 30 alle 19 e 30 nella chiesa Evangelica Battista a Rimini. Quindi ci sarà un collegamento sempre da entrambe le chiese via Zoom quindi il link sarà sempre uguale. Quello che cambia è la modalità perché faremo presenziale e virtuale e cambia principalmente l'orario quindi non ci incontreremo il mercoledì soltanto. Noi vogliamo fare un'esperienza almeno per 3-4 settimane per vedere come va così noi creiamo anche un po' più di movimento. I fratelli magari quelli che sono disponibili si possono incontrare sia a Rimini sia a Cesena che è molto lontano comunque si può incontrare dalle ore 18 e 30 alle 19 e 30 quindi prima della cena per stare insieme. Organizza la tua famiglia preparati se tu sei per la strada prima di andare a casa viene a pregare al Signore sia a Cesena come a Rimini. Io ti lascio veramente un grande abbraccio un bacio nel cuore benedizione in Cristo Gesù pregando insieme al Signore. Grazie a tutti.